Scegliere questa sera quelli per noi più rappresentativi, ci sediamo, voi già capite, quando ci sediamo si sta per fare un certo tipo di brano, in effetti il brano che stiamo per fare adesso è un po' l'emblema della nostra storia artistica, anche perché il primo brano che abbiamo cantato insieme tantissimi anni fa, pre-storia ormai, tantissimi anni fa, qualche anno fa, perché non vuoi svelare la tua longevità? 150 anni? No dai, lo diciamo. Ci siamo incontrati cantando e ci siamo incontrati grazie a questa canzone, quindi per noi è fondamentale quando possiamo poterla eseguire dal profondo del nostro cuore, la dolcissima Adagio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.